Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Recensioni Apple Giochi. Questo è il video di presentazione del canale per tutti gli utenti che lo visitano e che non sono iscritti. Questo canale, Recensioni Apple Giochi, conterrà principalmente video di recensioni, di programmi, di applicazioni. A volte ci saranno anche unboxing di prodotti. Io sono Tommaso, dello staff di Recensioni Apple Giochi. E se avete qualsiasi domanda, dubbio o richiesta su qualche video che possiamo fare, non esitate a chiedercelo nella nostra email oppure come messaggio privato su YouTube. Grazie. 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 Grazie.